Ti volevo chiedere, come è stato per voi a riceverci qui come associazione in questi giorni? Sicuramente per noi è stato un onore, ci siamo trovati benissimo, anche perché è già da tempo che seguivamo la vostra pagina social su Facebook. Ci siamo trovati bene per il semplice fatto, perché sposiamo la stessa finalità, c'è alla fine il divertimento, andare in giro per l'Italia, per voi, per noi far conoscere il nostro territorio. E quindi dall'iniziativa tu cosa... Di questo progetto sicuramente è un'iniziativa lodevole, perché fa venire fuori quello che è il carattere delle piccole realtà che a volte magari vengono dimenticate. Perché Balvano è un piccolo paesino di mille e passa abitanti. Ovviamente con voi avremo la possibilità, diciamo, di avere un piccolo angolo del mondo. E anche perché la cosa più divertente sarà la fine di questa intervista, quando andremo a bere tutti insieme. Ah beh, ok. Allora, grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi.